Viaggiavano con 227.000 euro tutti in contanti, ma sono stati sorpresi dagli agenti della polizia stradale che hanno denunciato per riciclaggio due persone. È accaduto in A1 vicino al casello Valdarno una pattuglia di battifolle mentre stava soccorrendo un veicolo rimasto in panna in colsia di emergenza, ha visto sfrecciare a tutta velocità una Golf con targa tedesca. Gli agenti hanno subito lanciato l'allarme alla centrale operativa, l'auto è stata fermata poco dopo, a bordo c'erano due persone residenti in provincia di Torino di 40 e 72 anni, entrambi con precedenti legati allo spaccio di droga. Gli agenti hanno subito notato qualcosa che non andava all'altezza del paraurti posteriore e hanno così deciso di effettuare i controlli più particolareggiati all'interno di un'officina di fiducia. Era stato creato un doppio fondo dietro il paraurti all'interno occultati cinque pacchi termosaldati con 227.000 euro in contanti. Nelle tasche dei due uomini sono spuntate fuori due mazzette da 5.000 euro ciascuna di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. La Polstrada ha quindi denunciato i due uomini per riciclaggio, la Golf e i 237.000 euro sono stati sequestrati, tutto esatto messo a disposizione della Procura di Arezzo a cui spetteranno le indagini per risalire alla provenienza di questo denaro.